Sicuramente è un'esperienza molto importante in un ufficio molto formato da ottime professionalità e molto attrezzato nella risposta a qualsiasi forma di criminalità, sia quella diffusa che quella organizzata. Sicuramente è un ufficio che ha potenzialità molto elevate e che è in grado di dare risposte alla collettività. Un territorio composito, un territorio che presenta diverse forme di delinquenza, sia organizzata che diffusa, in relazioni ai quali è necessaria una risposta sia preventiva che repressiva in grado di assicurare la sicurezza pubblica. Molto orgoglio anche in considerazione di quello che è la storia della Polizia di Stato, della Questore di Taranto e soprattutto della squadra mobile di Taranto che mi ha presto a dirigere.